Eccoci qui, buongiorno amici followers, bentornati sul canale. Oggi video riguardante la strategia di trading. Il trading online, video riguardante il come creare una strategia di trading. Da dove partire per creare una corretta strategia di trading? Molti trader alle prime armi pensano che sia sufficiente. Si studia l'analisi tecnica, poi si studia un po' di analisi fondamentale, poi dopo si mette dentro il money management, un pizzico di stagionalità, un po' di volume e via, pronti, via, sul mercato. Tac a perdere dei soldi, perché? Perché è una strategia di trading. Fatta così è una strategia di trading senza una base, una strategia di trading campata per aria. Il trader va un po' alla cieca e poi dopo, quando si presentano delle situazioni di mercato minimo, particolare, leggermente fuori dagli schemi, si fumano via i conti. Beh signori, oggi voglio spiegarvi come si fa a creare la base di una strategia di trading. Quali sono le colonne portanti che devono reggere il piano della vostra strategia di trading. Perché ogni trader ha delle colonne portanti, ogni trader ha dei pilastri, ogni trader ha dei principi sui quali, poi dopo, va a costruire tutta la strategia di trading, a definire la strategia di trading. Ma a primo servono questi principi. Nel video di oggi voglio spiegarvi quali sono i miei principi e descriverli uno per uno. Che poi sono i principi della mia strategia Taurus, che è la strategia che potete imparare nel videocorso Taurus che è uscito settimana scorsa. Ricordo che è l'unico percorso formativo che offro. Non ci sono più lezioni private. Prima insegnavo la strategia Taurus nelle lezioni one to one. Ho interrotto le lezioni one to one. Ora l'unico modo per imparare la strategia è il videocorso Taurus che trovate qua sotto in descrizione. Ma detto questo, andiamo ora a vedere quali sono i principi della mia strategia di trading, come creare i propri principi e soprattutto come, una volta creati i principi, andare a creare la strategia di trading su questi. Bene, partiamo subito e andiamo a vedere quali sono i miei principi, i pilastri della mia strategia di swing trading. Eccoli qua, i quattro pilastri della strategia Taurus. Semplicità, meccanicità, specializzazione e vantaggio statistico. Adesso ve li vado a spiegare uno per uno, così da farvi capire il perché. Prima si creano i principi di una strategia di trading e poi dopo si crea su di questi la strategia di trading. Quindi si fa quella parte di analisi tecnica, analisi fondamentale, money management e via dicendo, ma prima si parte da qui. Beh signori, iniziamo subito e partiamo dalla semplicità. Immaginiamo di essere sul gold. La prima cosa che fa un trader una volta che impara un po' di analisi tecnica è andare a analizzare il gold in questo modo. Si parte inserendo, di solito vedo così, un po' di medie mobili a fascio, un po' così, per creare un po' di confusione sul grafico che si cerca di capire tramite l'intersezione delle medie, i punti di entrata, più intersezioni ci sono, più il segnale è forte. Poi dopo si va a mettere un bel RSI sotto o uno stocastico. In questo caso scegliamo l'RSI, ecco qua. Un bel RSI sotto che ci dà un segnale di ipercomprati, ipervenduto, divergenze e via dicendo. Poi dopo il grafico a candele, non si sa perché, dopo un po' smette di piacere i trader e solitamente si va subito subito a prendere. Eccole qua, dove sono quelle maledette? Eccole qui lei che nasci. E subito si cerca di fare così. Solitamente i grafici partono in questo modo, un trader e la prima parte così, dice vabbè, così vedrai che riuscirò a trovare il momento giusto. In realtà, in questo caso c'è solo confusione, perché stai complicando una cosa già complicata. Già il trading non è facile, perché entra in gioco la componente psicologica, perché ci sono mille sfumature, perché è difficile anche da gestire, applicare e via dicendo. E tu vai, parti analizzando così. No signori, non si fa assolutamente in questo modo. Quello che bisogna fare è la semplicità. Al posto che cercare tutti questi segnali qui sul goal, ditemi, non era forse più facile andando sulla semplicità, no? Andare a dire ok, vediamo dov'è che ci poteva essere un buona reazione da questa discesa. Beh, forse questo livello qui poteva essere abbastanza interessante, no? Si tracciava solo un supportino e si diceva, ma sai cosa, milleotto, prezzo psicologico, qua mi fa anche un po' da supportino. Guarda come funziona bene, guarda che spettacolo, goal, strumento in cui i supporti funzionano molto bene. Guardate anche qui l'area dei 1620, come ha funzionato molto bene, no? Guardate anche questa zona qui. Quindi si cercano un po' queste aree qui. Diventa tutto più semplice, tutto un pochino più facile da capire e da identificare, no? E già questa posizione di qui, guardate che spettacolo, si prendeva proprio il livello andando a identificare semplicemente un supporto. Quando si potrà fermare questa discesa? Beh, questa zona. Semplicità. E la semplicità, in questo caso, avrebbe molto molto premiato, senza andare troppo lontano. Vedete anche questo livello qui, l'area dei 1987, guardate, solo col cursore, guardando dove era il minimo, guardate come ha coinciso molto con supporti passati, no? Che poi vi dico anche questa, questo è un piccolo spoiler, uno strumento tecnico più è facile da identificare, più facile da vedere, più trader, più investitori lo vedranno, più gente metterà lì la liquidità. Questa è una piccola chicca che vi lascio, abbastanza preziosa, ma per farvi capire il concetto della semplicità, la semplicità paga in questo lavoro. Secondo pilastro della mia strategia di trading, la meccanicità. Un trader deve avere una strategia meccanica, ovvero non deve, per limitare l'impatto emotivo, io sento sempre il discorso, Ah, ma la psicologia, il trading è 95% psicologia perché il mindset, la giusta mentalità, se non riesci a fare profitti perché non hai il giusto mindset, vale. Se non fai profitti perché non hai la giusta strategia. Il mindset, sì, è importante, ma insomma, dopo un po', il mindset poi dopo va anche a farsi benedire, se hai la giusta strategia di trading. No? Solitamente il mindset è una buona tecnica dei fuffa guru che dicono, ah, il mindset, ah, non riesci a fare profitti, è colpa del mindset, no? Delle accademie che dicono, ah, non fai profitti, ma perché non hai il giusto mindset? E poi fanno delle ore di mindset che non finiscono più. No, la realtà è che bisogna avere una strategia meccanica, una strategia meccanica, entri qui, esci là, e quando c'è il segnale lo fai, costruisci così la strategia, beh, signori, diventa tutto molto molto semplice. Esempio, questo punto qui su un gold, ma potevo prendere anche questo punto qui, prendiamo quello più recente. No, qui, si identifica facilmente quest'area, molto molto facile da identificare, eccola qui, no? Questa zona qui, supporto, qui in area 1.980, tra i 2.000 e i 1.980, si vede che si forma questa candela, abbastanza interessante, beh, signori, io quando i prezzi reagiscono sul mio supporto entro a mercato, molto molto facile. Finito, già fatto, no? Stesso discorso poteva fare qui, no? Stesso discorso poteva fare qui. Anche se si guarda un po', poi dopo chiaramente uno lo studia un po' più nel dettaglio prima di andare a operare, però, signori, per sfruttare le correzioni del gold era molto molto facile. Molto molto facile. Meccanicità, ok, tocca qui, se c'ho il segnale anche sulla candela, entro a mercato. Semplice, meccanicità. Metto lo stop qua sotto, se viene preso lo stop, chiudo la mia posizione, metto un target un po' ambizioso, poi dopo lì su stop loss e target, non ci sarebbe tanto da dire, solitamente un trader fa sempre più ingressi, non fa mai un ingresso solo, insomma. Però, una strategia meccanica, step by step. Succede questo, faccio questo. Succede quell'altro, faccio quell'altro. In questo modo il trading, tutta la parte psicologica, non conta più niente. Tu sei una macchinetta che quando c'è il segnale faccio quello, faccio quell'altro, faccio quello, faccio quell'altro, faccio quello, faccio quell'altro. E in quel modo lì i risultati si vedono. No, perché non hai il discorso o vado in ansia? Perché uno va in ansia e brucia un conto trading? Perché non segue una meccanicità, una serie di regole che gli dicono esattamente cosa fare e di conseguenza va in difficoltà. Quello è tutto il discorso psicologico. Con la meccanicità la psicologia va proprio a farsi un po' benedire, ecco. Poi dopo partiamo al terzo principio, il terzo pilastro della mia strategia di trading, che è la specializzazione. Perché è importante specializzarsi? Beh, signori, io ho un errore che vedo spesso, e questo ve lo dico guardandovi negli occhi. È gente che va a tradare di tutto. Un po' di forex, un po' di materie prime, un po' di azioni, un po' di questo, un po' di quello, un po' di quell'altro, e dice Ah, ma non guadagno. Ah, ma grazie. Stai tradando a caso? Non hai delle competenze, non hai delle conoscenze? Non conosci quello che stai tradando, no? Perché hai deciso di tradare oggi lo zucchero? Perché hai deciso di tradare oggi JBPUSD? Perché ieri hai comprato le azioni Tesla? Perché? Che cosa stai facendo su quelle? Niente, signori, niente. La gente fa delle cose a caso, all'inizio, che, voglio dire, un po' di sperimentazione, posso anche capirla, però dopo un po' bisogna andare a specializzarsi. Esempio, tornando sempre al gold. Sul gold, specializzarsi sul gold, cosa significa specializzarsi? Significa sapere tutto del gold. Tutto. Infatti, io nella mia strategia di trading, nel mio trading, trado 11 strumenti finanziari, non di più. Pensate, in 10 anni sono riuscito a tradare, a imparare a tradare, 11 strumenti finanziari. 10 anni che faccio questo lavoro. Ma perché così pochi? Perché mi sono dovuto specializzare? La specializzazione è un pilastro importantissimo. Perché il gold lo trado solo long? Perché il gold nel lungo termine tende a salire. E quindi, e qui mi collego al prossimo principio della mia strategia di trading, e quindi, se il gold nel lungo termine tende a salire, ho più probabilità che continui a salire. Ma perché sale il gold nel lungo termine? Il gold nel lungo termine sale perché è un bene finito. Perché ogni granellino d'oro sarà più difficile di estrarre del precedente, sarà più costoso estrarlo. E allora il gold nel lungo termine tende ad avere un trend rialzista. Quindi mi conviene cercare un'operatività long piuttosto che short. Io so che sale nel lungo termine. Ebbene, mi specializzo. Cerco di capire, tornando al discorso della specializzazione, quali sono i momenti in cui il gold va in difficoltà? Quali sono i momenti invece in cui il gold può avere senso negoziarlo? Magari quando un po' tutto il mercato va in difficoltà, quando c'è un po' di paura sul mercato, il gold fa da bene il rifugio, già questa è una conoscenza che mi aiuta. Poi dopo anche, cosa devo sapere sul gold? Se sono un trader devo sapere, specializzandomi, che ogni tanto può fare delle spike importanti. No? Le spike non sono degli eccessi di volatilità. Vedete sul gold? Non sono cose rare. Quindi anche nel piazzare stop, nel piazzare ordini, devo tenermi pronti perché so che ci possono essere queste spike. E io che sono un trader, devo essere in grado, già prima che si verifichino, di dire Ah sì, sai che ogni tanto il gold fa delle sparate. E devo essere pronto su quelle sparate. No? Conoscendo lo strumento, guardate. No? Uno dice, vabbè Silvio, ma ne cerchiate 5 o 6, sì, ho capito, ma 5 o 6 che ti sbagli 5 o 6 volte, inizia a essere 5 o 6 volte che perdi. No? E ora mi collego all'ultimo mio principio, ovvero il vantaggio statistico. Cos'è che ho detto prima? Il gold lo negozio solo long. Perché? Perché ci sono più probabilità che salga rispetto al fatto che scenda. Perché? Perché ogni granellino d'oro è più difficile da estrarre rispetto a quello precedente, è più costoso, è un bene finito e via dicendo. No? Per questi motivi io vado a dire, ok, allora ho più probabilità, e un trader si basa sempre sulle probabilità, che il gold salga. Nel medio-lungo termine, rispetto al fatto che scenda. Cioè, se io mi posiziono short su gold, ho le probabilità a sfavore. Quindi è una cosa da non fare mai. È come se io ci fosse una roulette con più numeri rossi che numeri verdi, e vado, scusate, con più numeri verdi che numeri rossi, e vado a puntare sul rosso. Ma sono, sono un pazzo. Dove? Devo ben puntare sul verde se ci sono più numeri verdi che numeri rossi. Benissimo, il gold è così. No? Perché? Perché se io vado a vedere ci sono più candele verdi che candele rosse. No? Se è salito, per forza, comunque i movimenti sono più importanti al rialzo che al ribasso nel lungo termine. E allora, ha senso puntare, tra virgolette, per farvi capire il discorso di vantaggio statistico, sul verde. Sul fatto che salga. E quindi faccio solo ed esclusivamente un'operatività long. Adesso, per questo esempio, per spiegarvi il pilastro, ho scelto il gold, si potrebbe fare per qualsiasi altro strumento finanziario, no? Questo ragionamento. Però, per raggiungere la specializzazione e per poi ottenere un vantaggio statistico sullo strumento, beh, signori, bisogna andare per forza a conoscere bene uno strumento finanziario, ci vuole del tempo. Questi sono i pilastri della mia strategia di trading e di questi penso che almeno meccanicità e vantaggio statistico debbano essere in ogni strategia di trading, no? Meccanicità e vantaggio, scusate, meccanicità, specializzazione e vantaggio statistico in ogni strategia di trading. Poi dopo, la semplicità è una cosa che ho scelto io nella mia operatività, perché ho detto, preferisco, più semplice, in modo tale da poter fare delle analisi in maniera un po' più pulita, anche sul grafico, anche poi dopo, anche a livello mentale, essere più tranquillo quando vado ad analizzare il grafico, perché ho meno confusione mentale. Ecco, per quello ho scelto anche la semplicità. Però, secondo me, meccanicità, specializzazione e vantaggio statistico sono quattro pilastri fondamentali di ogni strategia di trading, almeno questi sono i miei. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti di tutto ciò. Una volta, poi dopo, creati i propri principi di trading, poi dopo da lì si vanno a mettere dentro gli strumenti tecnici, si va a fare quello che un trader novizio fa subito, prima si crea questa struttura, poi dopo cosa si fa? Si vanno a mettere dentro gli strumenti tecnici, si vanno a mettere dentro gli strumenti finanziari. Quali sono gli strumenti finanziari su cui mi specializzo? Perché questi? Poi dopo si va a mettere dentro l'analisi fondamentale, quella che influenza quegli strumenti finanziari. Ma queste sono tutte cose che si fanno dopo. Si va a mettere dentro il money management per aumentare il vantaggio statistico, no? Come faccio ad aumentare il vantaggio statistico, ad aumentare le probabilità di chiudere operazioni in profitto? Lo si fa dopo. Prima, però, si creano questi quattro pilastri. Alcuni trader come Pilastro hanno il tempo, no? Altri trader la multiconferma. Possono essercene vari. Voi potete creare i vostri. Secondo me, i quattro, per me, per la mia strategia, i quattro che ho scelto sono i quattro più importanti. Naturalmente un altro trader potrebbe avere altri quattro e avere rendimenti superiori ai miei. Però ogni trader, in base anche a come vuole che il trading online impatti e gli effetti che questo abbia sulla sua vita, deve per forza avere dei principi di trading. Possono essere due, possono essere tre, possono essere quattro, possono essere sei. L'importante è averne. E una volta averli trovati, creare poi dopo lì la propria strategia di trading. Detto ciò per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, come sempre, un bel like di supporto. Vi invito a iscrivervi al canale e fatemi sapere qua sotto nei commenti, secondo voi, quali sono gli elementi più importanti che deve avere un trader nella sua strategia.